La pesante sconfitta di Londra per il titolo europeo leggeri e il terribile cappò con il fortissimo Mark Chamberlain alla York Hall hanno lasciato il segno e non poteva essere altrimenti. Marvin De Mollari vuole e deve ripartire anche se lo sta facendo a piccoli passi. Del resto, quando venne a trovarci in redazione il 9 luglio, annunciò il suo passaggio alla categoria inferiore dei superpiuma. Si sa che in questi casi il tempo è la medicina migliore, lenisce le ferite del fisico e della mente. De Mollari sa pure che quella europea e contro un campione simile era in presa quasi impossibile e altresì convinto che in Italia può essere ancora competitivo, anche se nella nuova categoria ha il limite dei 58-967. Da qualche settimana, seppur a ritmo blando, ha ripreso ad allenarsi agli ordini del maestro Massimo Bosio, chiaro che sarà importante rimuovere quanto è successo a Londra e guardare avanti con rinnovato entusiasmo e voglia. E questo, secondo noi, è l'ostacolo maggiore per rivedere il miglior De Mollari già prima della fine di questo 2023. In Italia, anche scendendone in superpiuma, ci sono buoni avversari, ma giocabili. Adesso tocca solo a lui crederci e ritrovare quella grinta e quella voglia di sacrificarsi che ne hanno fatto in questi anni un autentico guerriero del ring, uno degli sportivi lucchesi che ha dato e si è tolto le maggiori soddisfazioni. In fondo, ad oggi, ci sentiamo di affermare che il principale avversario di Marvin De Mollari è proprio lo stesso Marvin De Mollari.